Allora, visto che prima si è accennato ai mercati internazionali, ancora giusto due parole. Il mio consiglio è sempre quello di non aver paura degli stranieri, anzi, tutt'altro. Allora, guardate bene quali potrebbero essere gli editori che vi possono interessare. Bisogna capire qual è la linea editoriale, che è una cosa quasi indefinibile, perché la linea editoriale comprende lo spirito dell'editore, i temi trattati, i formati, il modo di trattare i temi scelti, la scelta degli illustratori e via dicendo. E tutto questo complesso, che effettivamente è veramente difficile definire con due parole, potremmo definirlo come la filosofia dell'editore, filosofia letteraria ed estetica. E in base a questo puntate alcuni editori piuttosto che altri. Se gli editori con la linea editoriale che sentite più vicina, più familiare, più interessante, sono stranieri, non abbiatene la minima paura o soggezione. Assolutamente. Anche se sono editori che stanno dall'altra parte del mondo, tipo australiani, non è un problema. Questo comporta che un illustratore debba parlare le lingue. Se non si parla, ma un artista in generale deve parlare le lingue, perché comunque in Italia è difficile campare... Punto. Sì, di soli, sì, punto. Cioè, solo lavorando con gli italiani è difficile davvero campare. Ed è bene comunque differenziare anche all'interno di un campo, non fossilizzarsi solo sull'albo illustrato per i piccoli, piuttosto che solo... Insomma, l'ideale è avere un ventaglio piuttosto ampio di possibili committenti. Quindi, niente paura degli stranieri. In genere si considera la Fiera di Bologna come il momento culminante dell'anno in cui o trovo la commissione o crepo. Non è esattamente così. La Fiera di Bologna dovrebbe piuttosto servire per informarsi, per vedere, per prendere informazioni, per poi in seguito prendere i contatti. Quindi è più una galleria che ci serve per farci un buon archivio, piuttosto che non il momento del... O firmo il contratto, oppure sono il peggiore schifoso del mondo e mi butto da un palazzo appena tornato a casa. No. Va presa molto sul serio, ma nel verso giusto. E cioè quello di farsi questo benedetto archivio di cataloghi, di biglietti da visita, eccetera. Lavorare con l'estero, oltretutto con gli stranieri, è molto utile perché si scoprono un sacco di cose. Si ha a che fare con culture diverse, con modi di vedere la cultura diversamente. Insomma, ci si arricchisce tantissimo. Si scoprono un sacco di cose interessanti che altrimenti difficilmente impariamo. Si sviluppano diversi modi di lavorare. scopri che da una parte magari il testo viene interpretato di più dall'altra di meno. Come interpretarlo, come accontentare i gusti, senza però mai svendere il proprio modo di interpretarlo. e oltretutto, non sempre, ma in alcuni paesi, anche il lato economico è più vantaggioso. Giusto due parole su questo argomento, perché in Italia a volte si pensa che la cultura non debba essere pagata. fai già un bel lavoro e non rompere il... non ti pago. No. Allora, intanto bisogna sempre essere pagati. In Italia... sapete cosa sono le royalties? Tutti? Sulla mano chi... Royalties? Chi lo sa? Ok, allora, le royalties, per chi non lo sa, sono... è la percentuale dell'illustratore e dell'autore. Se illustratore e autore sono la stessa persona, non si dividono, altrimenti si dividono a metà. In genere sono dal... 4, quindi 8, o 5, quindi 10%. Su ogni copia venduta si calcola sul prezzo di copertina defiscalizzato. Cioè, quindi togli l'IVA. Su ogni copia venduta l'illustratore e l'autore hanno, quindi, questa percentuale. In genere, si lavora, o meglio, si dovrebbe lavorare sempre con un anticipo sulle royalties. Quando si parla di anticipo, è un anticipo sulle royalties, dunque sul venduto. Questo anticipo dovrebbe coprire le royalties della prima tiratura. Quindi, occhi e croce, se si tirano 2000 copie del libro, l'anticipo dovrebbe essere intorno ai 1000 euro. Questo significa che più la tiratura è alta, più l'anticipo è grosso. In Italia, in genere, si va, diciamo, dai 400 euro di anticipo ai 4000 massimo. In Spagna, più o meno, siamo lì. In Francia, già, andiamo su cifre più alte, perché un anticipo piccolino è di 2000 euro e andiamo fino a 4, 5, 6 mila. Se si parla di mercato anglosassone, le cifre salgono di molto, perché chiaramente l'inglese lo parlano parecchi milioni di persone in tutto il mondo, dunque il loro mercato è immediatamente più ampio, dunque le tirature sono automaticamente maggiori. e partiamo dagli 8 mila fino ai 20, 30, anche più mila dollari o sterline a seconda del caso. Quindi, scusami un attimo, quindi c'è anche questo altro lato importante, per cui vi consiglio caldamente di non fissarvi sull'editore italiano e basta. Aspetta, il gelato. Il discorso delle royalties è valido solo se il libro o progetto viene proposto da autore e illustratore? No, sempre. Perché io l'unico lavoro che ho fatto in questa maniera è stato l'unico che abbiamo proposto io e un autore. In tutti gli altri casi io sono stato, diciamo, pagato per il lavoro di illustrazione e basta, non sono mai insistite le royalties. Beh, in genere si viene sempre pagati a royalties, anche perché è interesse di tutti, è interesse sia di chi il libro lo scrive, lo illustra, sia di chi lo pubblica. Ma posso dire che ci sono i contatti? Sì, assolutamente sì. Magari diciamo anche poi due parole domani, magari in chiusura, sui contratti, anche se avrete degli editori qua per cui ne parlerete con loro, poi ci sarà Fausto Orecchio, insomma, di cui ci si può fidare, anche se un editore, quindi sarà... Un'altra domanda è veloce riguardo al dottore, nel mondo del fumetto di solito si fa la ritenuta e si vende praticamente il diritto di riprodurre la propria opera. E le royalties di solito sono nel contratto previste. Quasi mai ti arrivano nel mondo del fumetto le royalties. Non so se avviene la stessa cosa anche nel mondo dell'illustrazione, velocemente è giusto per saperlo. Assolutamente sì, uguale. Sì, uguale. Quindi il contratto molto molto rapidamente funziona che tu cedi i diritti per fare il libro e stop. L'anticipo quindi vale su quello, se poi si fa l'ebook piuttosto che diventa un'animazione o qualunque altra cosa, lì sono diritti trattati a parte. Per cui le royalties e l'anticipo sulle royalties riguardano solo ed esclusivamente l'albo o il libro. Stop. Quindi esattamente come nel fumetto. Quando hai venduto sufficienti copie per arrivare a coprire l'anticipo che ti è stato versato, se l'editore ristampa il libro, ogni copia venduta ti frutta x euro, anzi o meglio x centesimi, perché su una copia più o meno si va dai 40 ai 60 centesimi a seconda del prezzo di copertina. Funziona così. Poi quando i diritti vengono ceduti all'estero si prende sempre l'anticipo che copre tutta la tiratura. Quindi questo è anche un lato molto importante perché può diventare veramente interessante da un punto di vista economico. quando si comincia a vendere in un paese, due paesi, cinque, dieci paesi, insomma, diventa interessante. Però per i fumetti, per l'estero, ho visto che lavoro per la Francia, lo so, bisogna essere iscritti alla Sofia, non so esattamente, in Francia per esempio bisogna essere iscritti per poi ricevere eventuali diritti in seguito. Non so se esiste probabilmente... No, 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 per l'illustrazione no. Questa Sofia o Sofia è praticamente, credo che sia tipo, sì, una cosa del genere, non è necessario essere iscritti. Le uniche volte che ho a che fare con questi qua è quando mi arrivano i diritti per i prestiti alle biblioteche. perché sono pagati anche quelli in Francia. No, quindi non è necessario. Ah, tra l'altro, giusto, molto rapidamente poi passiamo alla ciccia. Io consiglio anche di lavorare con gli stranieri, in questo caso specifico con i francesi, o perlomeno di provarci, perché in Francia ogni settimana praticamente c'è uno o più festival o saloni di editoria. E dunque gli organizzatori sono sempre a caccia di carne fresca, perché essendo così tanti hanno bisogno di coprire un sacco di laboratori, di incontri, di workshop e via dicendo. Dunque io al secondo, mi pare, libro che ho fatto in Francia sono stato invitato la prima volta. Succede addirittura al primo libro. E i francesi hanno un fisso che sono, mi pare, 411 euro al giorno, più tutte le spese. Dunque, capite che soprattutto all'inizio quando uno sta cominciando a ingranare possono far comodo, oltre che dare la possibilità di stabilire dei bei contatti, di conoscere un sacco di gente interessante, via dicendo, ma anche dal punto di vista proprio economico può essere interessante. Insomma, considerato che in genere non si va mai a fare un giorno, ma se ne fanno sempre due o tre o magari quattro, anche quello può essere un lato interessante di lavorare con gli stranieri. Domande? In Francia, mi pare di capire che hai tenuto la perfezione. In Francia, in Francia, sì. Ho letto un'infografica proprio ieri che sul 2013 il 10% dei libri venduti in Francia sono fumetti. E già questo è un dato? Il fumetto, come le illustrazioni in Francia, è considerato a tutti gli effetti arte. Tutte le tue? Sì, un libro e un albo o un albo di fumetti sono libri, non un'altra cosa, e le illustrazioni, le immagini che ci stanno sopra sono arte per i francesi. Questo... Per noi, questo è un fumetto, ancora nella concezione italiana, eh? Sì, è una roba... per sottosviluppati, per gente un po' così. Tant'è che quando devono... Scusate lo scopo. Quando devono insultare... Quando devono insultare qualche cosa di fiction che non è piaciuta, dicono è un fumettone. Per chiunque in streaming, leggete fumetti. Ok, allora. Potete fare una domanda? Certo. Ma... L'illustratore e l'autore vengono messi insieme dall'editore oppure propongono già insieme un progetto? Eh, dipende dai casi. Allora, in genere, i primissimi progetti che... che un autore, un illustratore pubblica sono proposti autonomamente. Io, ad esempio, i miei primissimi libri pubblicati li hanno scritti e illustrati. E poi dopo mandi il progetto e incroci le dita. In seguito, può capitare che un editore voglia mantenere la coppia se è una coppia vincente. Allora, magari tu hai un amico scrittore, fate il progetto insieme, lo presentate, all'editore piace, funziona sul mercato, si vende, è probabile che magari chieda un altro libro, per cui altrimenti può succedere che ti vengano proposti testi dall'editore. Tu magari hai mandato il tuo progetto, può darsi che siano piaciute le illustrazioni e non il testo, ad esempio, dice, allora, questo libro non te lo pubblico, perché non mi convince nel complesso, illustrami quest'altro testo. Comunque, in genere, sì, è l'editore che vede l'illustratore adatto per quel testo piuttosto che per quell'altro, magari col tempo cambia anche, perché uno può cominciare con l'albo, poi passare al classico, o fare magari un po' dell'uno e un po' dell'altro, comunque in genere, sì, è così. Allora, l'argomento a cui passiamo adesso, appunto, questo benedetto progetto, può capitare che si vada da un editore, si presenti un portfoglio con illustrazioni singole e all'editore piacciono e si riceve un testo, una proposta di testo da illustrare. Questo va benissimo. È comunque sempre bene lavorare in serie, perché l'illustratore deve gestire un libro completo. Dunque, se andate da un editore con un portfoglio, è bene che ci siano delle illustrazioni in serie, almeno tre o quattro. Altra soluzione vincente è quella di fare un progetto completo. Dove trovo il testo? Eh, il testo o me lo scrivo da solo, oppure ho un amico scrittore, oppure punto sui classici, che possono essere sia i classici per ragazzini che i classici per bambini. Per dire il cappuccetto rosso piuttosto che il diavolo di fiaba che vi piace, che vi fa voglia di lavorarci sopra. Se non altro, anche se poi dopo non viene preso il progetto, dimostrate di poter reggere un libro completo e questo è fondamentale perché potete essere bravissimi ma poi non essere in grado di gestire un progetto complesso nel suo insieme. Rapporto test-immagine e via dicendo. Dunque, allora, intanto, le parti che compongono un libro le conoscete tutti? Vabbè, questa chiaramente è la copertina. Questa? Ok, in altre lingue? Cover? Francese? Sì. Le do? In inglese non lo so. Do, dos. 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 Gart, in spagnolo guardas, è portata. fronte e spizio, page de tito, title page. Ok. Allora, questo, questa è una struttura classica, copertina, sguardia, fronte e spizio e poi cominciano le e poi cominciano le si chiamano. Le due pagine, testo e illustrazione. In genere sono multipli di quattro, vediamo se due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici e poi qui rimane la pagina dei crediti, sedici, quindi sono sedici aperture in questo caso, sono sempre multipli di quattro, questo per non sprecare carta. quindi dodici, sedici, venti, ventiquattro e avanti così. Dunque, quindi, vi ricordate come si chiamano i copertina? Allora, copertina. fronte spizio. Ok, perfetto. Quarta di copertina. Dunque, ci sono anche casi particolari, ad esempio, questo si chiama in, l'ho appena scoperto in italiano ma non me lo ricordo più, anti fronte spizio. In francese è il faux titre. Per arrivare al giusto numero di pagine si inserisce il titolo senza null'altro e poi dopo c'è il fronte spizio vero e proprio. Allora, quindi questa è la struttura la struttura classica dell'albo illustrato. Se volete segnarvelo è comunque questa. copertina, copertina, sguardie, fronte spizio col titolo e poi apertura per moltipli di 4 dunque 12, 12, 20, eccetera, eccetera. e quarta di copertina. Schema classico. Però all'interno di queste di questo schema che è praticamente sempre ripetuto le possibilità sono infinite. allora tanto il formato può essere verticale o orizzontale. Quello orizzontale si chiama all'italiana. In tutto il mondo? Sì, non ho idea perché, non lo so, sarà probabilmente una roba che arriva da chissà quale tradizione storica, non so perché. quindi verticale o all'italiana? Verticale e orizzontale e all'italiana. Poi c'è il, ci sono vari, all'interno del verticale ci sono varie possibilità. Vedete? Più o meno verticale. Quando si lavora su un progetto io consiglio indicativamente perché non esiste una verità assoluta di scegliere formati abbastanza standard. Questo direi che è in proporzione a A4, A3, eccetera. L'A4 è diciamo quello base con il foglio da stampante 21x29.7 Quando dico 21x29.7 mi riferisco un formato verticale perché si dice prima la base e poi l'altezza. Quindi questo è un formato standard in proporzione con la A, il formato A. Formati così sono un pochino più problematici perché non è detto che tutti gli editori abbiano questo formato mentre è molto probabile che tutti gli editori abbiano quest'altro formato qua. Perché chiaramente poi si si può ingrandire no ma rimpicciolire sì. Per cui se lavorate su un che ne so un 23x33 che è un bel formatone è in proporzione con la e si può rimpicciolire per arrivare a un formato come questo un formato classico A o anche più piccolo quindi idem per il formato quadrato quasi tutti gli editori hanno il formato quadrato come scegliere il quadrato o il verticale il quadrato in genere si utilizza per le fasce di età più basse difficilmente si fa un libro per bambini di 10 anni di formato verticale cioè di formato quadrato scusate per i piccoli invece va molto bene il quadrato classico i formati più comuni sono il 20 per 20 21 per 21 fasce d'età più alta tendenzialmente si utilizza il verticale sempre in genere tendenzialmente in proporzione A il formato orizzontale quando si lavora su un proprio progetto non mi sentirei di consigliarlo perché non tutti gli editori ce l'hanno è un formato un pochino scomodo perché rischi che quando è un po' più grande vada fuori dagli scaffali e allora in questo caso le libraie te lo mettono magari per così e quindi io non vedo più il dorso quindi se uno lavora sui suoi primi progetti io sconsiglio il formato orizzontale anche perché in genere è più difficile da gestire perché come una fascia molto 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 larga è non facile da gestire mentre con un con un verticale abbiamo un un campo da inquadrare che è più più semplice da controllare poi all'interno di un libro le possibilità sono sono varie qua forse non ce l'ho tutti ma magari ci spostiamo da voi vi spiace andiamo a vedere là che tra l'altro ci sono anche dei vari libri che non ho potuto per portare quindi qui interrompiamo un attimo perché sei grazie non è pausa no non è pausa ah oh lui allo serine volevo riferire del crowd s Parlavo del crowdfunding, visto che se ne sta molto parlando nel mondo del fumetto italiano sta cominciando a fare gola a un po' di autori anche già navigati non so se fa gola anche agli autori di illustrazioni per bambini Io sinceramente non lo so proprio perché ho una mia serie di editori con cui lavoro da anni con cui lavoro bene, con cui ho voglia di proseguire per cui non lo so perché non ho proprio esperienza in proposito non ti saprei assolutamente dire Sì, io voglio andare un po' più sul sodo io poi rappresento un paese in quale noi veramente siamo pochi illustratori nel senso la mia città è di 5 milioni di persone ogni anno due accademie e fanno uscire 5 professionisti e da 10 anni in Italia mi chiedo ma la crisi italiana dell'editoria per l'infanzia, per qualsiasi altro target non è dovuta perché produzione di illustratori qua esagerata nel senso le scuole private, le scuole dove appogamento ti insegnano a diventare un professionista però arrivati sono veramente pochi diciamo la verità, noi poi ci permettiamo qua a fare le critiche su diversi tipi di disegno piuttosto fare analisi del mercato che cosa si vende, che cosa non si vende però è sempre dall'arte siamo partiti allora artisti nel mondo di illustrazione quanti sono? sono pochissimi dobbiamo essere un po' consapevoli di questo prima di lanciarsi nel mondo dell'illustrazione secondo me è la prima domanda che ognuno di noi dovrebbe fare e poi la responsabilità di un professore sicuramente magari a dire che non ce la fai perché io sono stata educata così per 6 anni mi dicevano non ce la fai allora siamo entrati in 15 siamo usciti in 5 altri non l'hanno fatto è giusto allora il mercato è ristretto nel senso che là veramente lavorano le persone che a parte che hanno fatto un mazzo così per dire cioè quelli che veramente sono convinti della cosa cioè non siamo qua illustratori della domenica che poi non c'è non sempre non sempre anche perché ci sono esempi di successo io credo che la distanza auto come lavoro credo che se uno la prima le convinti si ritira da sé e poi alla fine no no ci sono non lo so vabbè sì in via massimo credo di sì però ci sono alcuni esempi di successi commerciali che però non sono giustificati dal punto di vista dell'arte e qua ce ne stanno tantissimi si si no lo so lo so lo so ma ripeto c'è la selezione che si fa all'est e non sto parlando solo della Russia ai Balcani e dopo è molto più fair no? è molto più cioè la scuola tutto che vuoi magari rovini un talento dicendo che non non arriva e invece è stato un vero talento ho amici così in Russia che sono rimasti un po' sospesi però in Italia in Italia si nota c'è l'altra estremità no? siamo tutti illustratori siamo tutti grafici e siamo tutti piuttosto critici verso le altre secondo me non è giusto è è crisi ecco questa è un sacco di prodotti non di qualità ce ne sono sul mercato educazione è veramente cioè nel senso al genitore nessuno non spiega che questo libro piuttosto più bello e più utile per il bambino che quest'altro che non lo so tutte le case editrice molto commerciale in Italia no no non sto dicendo non sto dicendo questo però questa è la tendenza che vedo da dieci anni perché mi sono appena lavorata in Russia e sono trasferita in Italia e vedo c'è una costante decadenza del mercato e della tendenza in generale a educare ecco questo è che dobbiamo fare sì quindi la domanda alla fine era era un era un no perché effettivamente no la domanda è della tracera per quando tu sei un comunque un professore e tu dovresti magari dire a una persona piuttosto che a un'altra che cioè non c'è niente da fare dall'altro punto di vista sei pagato a non dirlo attenzione no io è una responsabilità che questa che non mi prenderei mai anche perché a volte ho visto dei miei studenti a cui non avrei dato nessuna chance che se mi avessero chiesto dimmi la verità continuo lascio perdere io avrei detto consiglio mio lascia perdere e invece poi ce l'hanno fatta ma quanti sono? sono pochi va bene però anche fosse uno su mille è una responsabilità che io quella assolutamente non mi devo non mi posso non mi devo prendere e altro discorso è vero che non tutti quelli che cominciano ce la fanno sono una una piccola percentuale oltretutto non è pubblicare il primo libro il vero il vero scoglio il primo libro se si bastona e si bastona a lungo lo si fa il problema è arrivare a fare il secondo e il terzo e il quarto superati dieci uno può dire ok allora sono illustratore ma non dieci in quindici anni dieci in qualche anno quello è il vero problema e poi dopo come vi dicevo prima aprire il ventaglio non fossilizzarsi solo su un campo specifico poi per carità se uno è appassionato di quello e quella è la sua vita va benissimo ma cercare di aprirsi di fare cose differenti e poi è chiaro non tutti ce la fanno una piccola percentuale ce la può fare è vero che rispetto a non lo so dieci anni fa saranno raddoppiati gli editori in Italia però tenete conto che la media italiana sono 3500 libri pubblicati all'anno nel settore infanzia e ragazzi in Francia sono 7500 in in Germania circa 5000 e in Spagna altrettanti quindi sono di lavoro ce n'è è chiaro che più libri si stampano meno se ne vendono in proporzione è una scelta che bisogna fare io non non conosco nessun illustratore che viaggi in Porsche però si può campare anche molto bene qualcuno che campa molto bene cioè io sinceramente non non mi lamento dunque diventare ricchi è difficile campare bene si può bisogna avere una serie di talenti e quello di disegnare bene non è sicuramente il primo bisogna saper raccontare bisogna essere dei buoni manager di se stessi bisogna essere professionali soprattutto io penso che il fatto che non che abbia più lavoro di quello che riesco a fare dipenda soprattutto da un fattore non ho mai ritardato una consegna mi è capitato l'anno scorso per la prima volta dopo dieci anni di lavoro non ho mai ritardato una consegna mi sono sempre arrangiato a fare al meglio anche quello che non sapevo facendomi sempre un mazzo così insomma secondo me il mio punto di forza è la professionalità nessun editore poi magari ci bisticcio con gli editori magari per un motivo o per l'altro non si lavora più insieme però dubito che qualche uno possa lamentarsi di me dal lato professionale e questo è fondamentale poi per fare gli illustratori ci vanno una serie di talenti diciamo disegni sicuramente sarebbe meglio disegnare molto bene o divinamente bene ma anche disegnare discretamente o saper fare il disegno che funziona è sufficiente bisogna saper raccontare le storie fondamentale bisogna avere una mente aperta bisogna essere curiosi bisogna avere una bella cultura adesso sembra una scuola di vita però la realtà è questa se non leggete almeno dieci libri all'anno e non parlo di albi parlo di narrativa o saggio o quel che diavolo volete ecco questa è un buon motivo per dire ok non faccio l'illustratore se leggete meno di dieci libri all'anno che diavolo centrate con i libri insomma e questo proprio sì ecco questo è un motivo per cui ti dico ok allora lascia perdere e poi appunto una buona cultura letteraria è fondamentale ma anche visiva per cui se non siete curiosi se non avete voglia di andare a vedere le mostre se non non leggete tanto se non non guardate tanti film e parlo del grande cinema se non vi guardate in giro quando camminate se non avete voglia di osservare come sono fatti gli alberi come che ombra proietta quel quel dato oggetto su quella certa superficie queste sono tutte discriminanti che effettivamente dici forse non è il lavoro proprio più più giusto e poi l'ultimo un illustratore dovrebbe avere un gatto chi ha un gatto pochi procurateveli in teoria dovrebbe non essere a stemio e fumare però questo non insisto troppo tal che poi no perché c'è stato qualche anno fa è venuta fuori la moda prima erano tutti così gli illustratori gatto fumano e bevono sono venuti fuori tutti questi illustratori salutisti mezzi vegan che per fortuna stanno no 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 ma stanno passando ormai che la moda o è già o è già o è già passata ok quindi questo vabbè quella è una vabbè quello si può allora va bene introduzione pratica alla progettazione di un albo ok allora allora io ho segnato progetto editoriale formato numero di pagine e copertina interpretazione del personaggio rapporto test-immagine interpretazione interpretare un testo ok allora adesso entriamo nel nel vivo a meno che non ci siano domande ok allora un minimo abbiamo già detto sul personaggio la la deformazione l'interpretazione personale della dell'anatomia molto 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 indicativamente è quella di cui abbiamo parlato ripeto ogni mercato ha delle peculiarità delle caratteristiche anche nell'interpretazione nella costruzione del personaggio un consiglio che do è quello di non cercare il proprio stile subito lo stile viene da sé come non si sa è un processo di crescita naturale in genere un giovane illustratore un illustratore esordiente vuole stupire il mondo con delle innovazioni con delle novità assolute solo lui ce l'ha sconvolge no assolutamente sconsigliato gli editori vogliono dei bravi professionisti non dei pazzi scatenati quindi non cercate fate quello che vi viene naturale i personaggi vi devono essere simpatici dovete sentirli vostri non non forzateli mai mi ricordo all'inizio proprio per per stupire tutti fanno gli errori da giovane illustratore tendevo a deformare le teste a farle molto molto allungate addirittura agli inizi inizi facevo gli occhi neri con la pupilla bianca perché mi sembrava una cosa così poi un illustratore con una trentina d'anni di carriera mi fa ma falli normali perché li fai così sembrano degli alieni e mi ha detto è vero sembrano degli alieni perché li faccio così non c'è nessun buon motivo allora gli occhi li ho ho cominciato a farli normali e insomma è un po' tutto così lo stile viene da sé viene da sé con con la crescita vostra personale quella la crescita artistica insomma scoprite delle nuove cose le riversate nella nella vostra arte e via dicendo quindi piuttosto che che fare le cose strane fatele molto molto semplici a limite banali poi col tempo diventeranno vostre personali e assolutamente diverse da tutto quello che già si vede sul sul mercato poi quando dovete fare una cosa guardate quella cosa sempre questo assolutamente anche lì l'interpretazione degli oggetti di qualunque cosa verrà col tempo con la conoscenza mi è capitato di di avere studenti che si scervellavano per disegnare una finestra la disegnavano male e non guardavano quella che c'era lì di fianco un'altra volta invece giusto per per vedere quanto si guardavano attorno c'era un ventilatore e ho detto disegnate una l'elica di una di una barca realistica ed è passato almeno un minuto prima che qualche d'uno pensasse di andare a spegnere il ventilatore per guardare l'elica quindi lavorate anche per associazione quando avete imparato a disegnare avete capito esattamente come è fatto un cavallo con un minimo di elaborazione mentale saprete disegnare una vacca e una una gazzella questo è ovvio ma l'anatomia di un cane non è poi molto diversa le strutture la la conformazione il le masse muscolari sono quelle quindi tutte le volte che dovete disegnare qualche cosa guardate come è fatto assolutamente disegnate realistico e poi dopo da lì passate alla vostra interpretazione imparate a disegnare gli alberi ad esempio ottimo esercizio andare al parco andare nel bosco e disegnare gli alberi e disegnarli in modo utile quindi una volta che avete la massa della della forma con la scultura della massa proprio e la chioma accennata vi basta avvicinarvi e disegnare un po' di corteccia e alcune foglie con se ha frutti ghiande o quel diavolo che è quello e voi con quello potrete disegnare tutti gli alberi di quel tipo per tutta la vita e avrete capito com'è fatto quindi sempre guardare la realtà e poi passare alla alla vostra interpretazione altro consiglio che do è disegnate sempre l'anatomia se potete frequentare una scuola libera del nudo perfetto altrimenti se avete un fidanzato o fidanzata che si presti ogni tanto gli chiedete la cortesia di mettersi lì e di farsi disegnare fate sedute brevi così non lo o la stancate troppo e tenete quindi sempre la mano in esercizio ok questo molto di base come si studiano i personaggi ognuno avrà il proprio metodo ma l'importante è che i personaggi abbiano un'affinità tra di loro cosa voglio dire noi possiamo creare un mondo nostro dove il cielo è verde la terra è gialla dove sono tutti fatti strani ok va bene sarà un mondo assurdo però tutti i personaggi che vivranno su questo pianeta che abbiamo inventato respireranno la stessa aria avranno la stessa forza di gravità e dunque la loro conformazione sarà simile questo significa in parole povere che se i personaggi umani ad esempio sono declinati da uno stile vicino al fumetto gli animali non potranno essere iperrealistici e viceversa quindi ci dovrà essere una corrispondenza tra i vari personaggi così come per fare un un bambino non basterà semplicemente rimpicciolire un adulto che sembra una banalità ma non è assolutamente così un bambino deve essere un bambino molto semplicemente se questa è occhi croce la proporzione di di un adulto un bambino andrà ad avere la la forma del volto più più compressa la linea del degli occhi sarà più bassa adesso ovviamente sto esagerando il naso sarà più corto e la bocca più piccola quindi non è sufficiente pigliare un adulto che siamo riusciti a fare molto bene ci piace molto siamo molto soddisfatti e comprimerlo per fare un bambino o viceversa assolutamente no questa stessa cosa vuol dire deve essere pensata anche per per gli animali gli animali vivranno nello stesso posto avranno la stessa forza di gravità respireranno la stessa aria mangeranno le stesse cose a seconda che siano carnivori onnivori o vegetariani evidentemente però questo è molto importante che si senta aria di famiglia in qualche modo questo darà un per quanto sia assurdo il nostro mondo darà un ci risulterà più familiare ci muoveremo più a nostro agio ok è tutto chiaro sì bene ok stessa cosa per le proporzioni del corpo sarà sconsigliabile se un personaggio ha queste proporzioni fare che ne so un il suo cane con queste proporzioni allora bisognerà studiare in modo che occhi e croce funzionino insieme questo molto indicativamente quando si si lavora sugli animali anche lì bisogna stabilire bisogna capire come funzionano per esempio se decidiamo che gli animali saranno umanizzati dunque cammineranno su due gambe invece che a quattro zampe eccetera dovranno i corpi dovranno essere adattati al tipo di animale così come al carattere di questo di quest'animale e dovranno andare d'accordo se ci sono degli esseri umani anche con questi esseri umani mai forzare quando vi rendete conto che una cosa non funziona non vi non vi quadra ma dite però è fico no allora ripensateci tornate indietro e lasciate perdere ristudiate cercate di avere sempre tutto sotto controllo che tutto funzioni tutto si vada a inquadrare perfettamente tutto vi deve convincere questo benedetto mondo che avete creato deve essere un mondo credibile a modo suo all'interno del regno della fantasia ma deve essere credibile più o meno mi sono spiegato perché non è così proprio automatico si? ok allora studio del del personaggio io vi dico come qual è il mio metodo è un metodo molto veloce oltretutto allora poniamo di doverci inventare una una vecchia che è quella che faccio di solito e mi viene più più veloce allora intanto vecchia decidete voi vecchia strega o vecchia nonnetta 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 dai ok allora facciamo così cambiamo foglio va dunque allora una vecchia nonnetta allora allora primo schizzo boh mi convince molto poco quindi vediamo mi piace però il mento così da da sdentata allora magari lo carico un po' di più però così mi sembra poco femminile allora mi fermo direttamente qua vediamo facciamo magari il naso più piccolo e proviamo a mettergli gli occhiali ok così comincia a convincermi un po' di più e magari esageriamo con con i capelli scegliamo una soluzione allora e questo è già qualcosa che mi mi convince a convincere proviamo a esasperarla un po' allungandogli la faccia ma tenendo sempre la stessa allora sta diventando un'altra cosa adesso è diventata già una non più una nonnina ma è già una contessa o comunque un qualche tipo di nobile donna quindi un po' magari mi piace ma non non sto più nel personaggio allora torniamo indietro proviamo a vedere questa senza occhiali come potrebbe funzionare però a questo punto forse il cappello cosa ha non mi piace più proviamo delle altre soluzioni ad esempio poi ma in fin dei conti adesso riguardando con questi capelli forse questo mento mi andrebbe a bilanciare meglio allora vado a tenermi questi capelli che mi mi piacciono e vado a rimettergli il mentone che avevo messo all'inizio e avanti così allora io quando lavoro di di bozza non cancello mai la gomma proprio non la tengo sul tavolo questo perché perché cancellare significa uno perdere immediatezza quando sei al galoppo è meglio non non fermarsi in più cancellare significa togliere materiale dal tuo archivio mentre se tu invece non cancelli puoi tornare indietro allora dici ok cosa avevo fatto mi sembrava che ieri avessi azzeccato che ne so l'occhio piuttosto che non so che diavolo altro e te lo vai a cercare quindi io non cancello mai e vado avanti così fino a che non non comincio a essere convinto poi magari mollo tutto e ritorno all'inizio per questo vi consiglio assolutamente di non lavorare mai sui blocchi ma sempre su fogli sciolti perché è molto più comodo ve li potete mettere sul tavolo mentre invece di una scomodità assoluta dover andare a ricercarli indietro piuttosto quando avete i personaggi che vi convincono ve li graffettate in modo da che non si spargano ovunque perché comunque tenere memoria del lavoro fatto anche solo di bozza per me è sempre è sempre utile allora poniamo che io sia soddisfatto del personaggio perché ha la faccia giusta il carattere mi sembra azzeccato con quello che è descritto nel testo insomma mi quadrano le cose a questo punto comincio a lavorare sul corpo vediamo un pochino come come lo potrei fare allora perché il corpo anche dà una sua espressione al allora potrebbe essere così sempre molto rapidi senza stare a preoccuparsi senza ombreggiare in questa prima fase eccetera oppure potrebbe sempre ridisegnando perché comunque tenere sempre la mano in moto è tutta salute allora a questo punto potete passare se prima in proporzione questa è il vostro a4 dunque questa è la proporzione dei volti quando passate al corpo e il volto è già è già quello che prendete per buono potete andare a lavorare più sul piccolo per guadagnare tempo allora vediamo si può provare a fare un corpo un pochino più lungo a quel punto ovviamente anche l'abbigliamento può essere studiato diverso allora vediamo un pochino ad esempio se mettergli uno scialle farla più o meno gobba più o meno grassa e via dicendo poi può capitare che una volta che abbiamo trovato il corpo sia il caso di riaggiustarlo insieme al volto e quando ci sono più personaggi cioè praticamente sempre è meglio cercare di non perdere di vista quindi lavorare un pochino in contemporanea su vari magari ogni tanto stacchi con uno riprendi un altro e avanti così soprattutto quando sono esseri umani e animali che agiscono insieme è meglio cercare di lavorare un po' su questo e un po' su quello domande? ok allora abbiamo la nostra protagonista dobbiamo passare a studiare i comprimari abbiamo stabilito poniamo che questa sia la nostra anatomia più o meno questa andrà rispettata ok lei è gobba per cui vorrà dire che le proporzioni su un adulto normale saranno più o meno queste o sarà un pochino più alto via comunque insomma occhi croce se questa è la nostra vecchietta definitiva dovremo costruire gli altri personaggi sullo stesso chassis bene allora è chiaro che a seconda del tipo di committenza a seconda del tipo di mercato a seconda del tipo di storia dovremmo muoverci di più in una direzione o in un'altra come si è detto quindi per alcuni mercati ti puoi permettere di fare personaggi più grotteschi più brutti più anche più simpatici per altri devi mantenerti più sul surrealistico questo non è mai da perdere di vista se ci interessa il mercato americano è inutile che andiamo a proporre personaggi assurdi non ce li piglieranno per cui se ci piace disegnare i personaggi orribili puntiamo che ne so sugli spagnoli per esempio questo assolutamente quindi se mai perdere di vista per chi stiamo lavorando o per chi vorremmo lavorare assolutamente come detto le altre fasce di età devono essere costruite sul protagonista una volta che abbiamo un protagonista che funziona lui sarà il nostro modello per andare a costruire anche i comprimari i vari punti di vista ce l'hanno in questa fase ah sì giusto brava non facendo fumetto non abbiamo bisogno che il personaggio e animazione che giri a 360 gradi io consiglio di schizzarlo di tre quarti quando ce l'abbiamo buono lui e gli altri a quel punto vedere come funziona di fronte e di profilo e provare a fargli fare due movimenti a quel punto magari c'è da fare ancora qualche aggiustamento da mettere a posto qualcosina comunque sì un minimo deve poter girare e ah sì l'abbigliamento fondamentale a seconda di come vestiamo questa vecchietta evidentemente sarà ricca povera sarà di un periodo storico di un altro e via dicendo se il periodo storico è stabilito nel testo boh dobbiamo adeguarci e all'interno gestire in modo che funzioni per raccontare la storia come la vogliamo noi se il periodo storico non è indicato precisamente sta a noi stabilire dove piazzarla nel classico medioevo fantastico delle fiabe per esempio certo ma immaginate la differenza di piazzare cappuccetto rosso per dire nel medioevo fantastico oppure piazzarla ai giorni nostri o durante la rivoluzione industriale cioè la stessa identica storia cambiando l'abbigliamento e l'ambientazione cambia completamente di significato cioè il significato che noi andiamo a dare viene stravolto e questo è da valutare molto molto bene quindi non l'ambientazione la scenografia la i costumi devono essere scelti con molta attenzione non è solamente una questione estetica lo faccio così perché mi piace lo faccio così perché voglio raccontare quella roba lì lo faccio cos'ha perché voglio raccontare quell'altra fondamentale questo sempre da tenere molto a mente allora adesso magari parliamo un po' di composizione molto rapidamente c'è un volontario un uomo per cavalleria time out ok allora stop oggi pomeriggio riprendiamo allora con la composizione buon appetito ok lo streaming per oggi è finito riprendiamo domani alle nove e mezza come oggi e vi vi ciao